Che cosa ne pensa di questa legge di stabilità? Questa legge di stabilità è demenziale, saranno più tasse per i cittadini e le regioni già più virtuose oggi, Lombardia e Veneto, rischiano di dover chiudere ospedali, di dover fermare gli autobus per gli studenti e di non poter più fare formazione per i disabili, i non vedenti, i non udenti, di non poter manutenere le strade. Quindi o Renzi cambia e taglia laddove gli sprechi ci sono, altrimenti Lombardia e Veneto non ci stanno e andiamo alla guerra.